Amore! Eeeh... Ma perché fa sempre così? Cosa c'è? Lo sai che giorno è oggi? È domenica! Brava, quindi? Domenica! È domenica! Oggi è domenica! E questo l'abbiamo capito! E allora? Bisogna trovare qualcosa da fare, amore! Non possiamo stare a casa tutto il giorno! Dai, preparati! No, 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 lascia stare, guarda, io ho già trovato Tivano, copertina, la pace dei sinsi Ma quale pace dei sinsi, amore? L'idea è di andare al centro commerciale Passare una domenica a pensare a tutti i nostri regalini Vuoi sapere cosa penso della tua idea? Rimango qua, declino lo fermo, mi dispiace Sì, amore, andiamo al centro commerciale No, al centro commerciale no Sì, ci andiamo al centro commerciale invece Non ci pensare neanche, non si va Sì Ma no Sì, ci andiamo No Sì No E io ti ho detto di sì No Sì No No Grazie a tutti.